L'espansione sui mari, i commerci e le colonie. L'impero coloniale spagnolo. Gli spagnoli giunsero per primi in America nel XVI secolo e hanno fondato un impero coloniale più della metà del continente americano. Fondarono una colonia di popolamento numerosa, la popolazione proveniente dal paese di origine, quindi iniziarono a trasferirsi moltissimi spagnoli in queste zone. Ci fu un'intensa migrazione. La Spagna veniva chiamata madre patria, paese da cui provenivano i colonizzatori. I coloni invece erano gli abitanti delle colonie, avevano l'obbligo di commerciare con la madre patria, cioè con la Spagna. Nei Caraibi c'erano i contrabbandieri o i pirati che vendono di nascosto le merci vietate. I contrabbandieri vendono beni a prezzi più bassi della madre patria, mentre i pirati attaccano le navi spagnole e prendono il bottino oro e argento e poi altre merci e le rivendono. L'impero coloniale portoghese. Tra il quindicesimo e il sedicesimo secolo questo impero coloniale ebbe più carattere commerciale. Hanno fondato cioè un impero coloniale. Il Portogallo era poco popolato e non ha fatto un colonialismo di popolamento, ma più che altro un colonialismo commerciale, cioè crearono dei furtini di appoggio per depositarci le merci lungo le coste dell'America. Si sostituirono agli arabi nel commercio delle spezie con l'Oriente, tant'è che la lingua portoghese fu molto utilizzata negli scambi. poi ci fu la supremazia dell'Olanda. Il Brasile, quindicesimo e sedicesimo secolo, aumentò l'interesse dei portoghesi per il Brasile, scoperto da Cabral e si svilupparono piantagioni di canne da zucchero, ma serviva a moltissima mano d'opera. Pertanto iniziarono a far arrivare dall'Africa, gli uomini per la mano d'opera. Schiavi neri, sostituiti velocemente perché morivano facilmente per il lavoro estremo che dovevano fare all'interno delle piantagioni. Compagnie commerciali di navigazione. Nel sedicesimo secolo i commercianti per condividere rischi di viaggi lunghi formano le compagnie commerciali di navigazione. Nel 1602 si unirono dieci compagnie in Olanda, crearono la compagnia olandese delle Indie orientali, che ebbe il monopolio del commercio nell'oceano indiano e il diritto di commerciare senza concorrenti. Disponevano di una potente flotta e di uomini armati e si impossessarono del sud-est asiatico. Cacciarono pertanto i portoghesi. Poi nacque la compagnia olandese delle Indie occidentali, cioè l'America, dando vita a nuove colonie. Ad esempio Nuova Amsterdam, che fu ceduta nel 1664 agli inglesi e prese il nome di New York. Così l'Inghilterra stabilì il predominio sui mari. L'espansione coloniale di Francia e Inghilterra. La compagnia inglese delle Indie orientali, nacque nel 1600, aprì sedi commerciali in India, diventando sempre più potente. Poi ci fu la compagnia francese delle Indie orientali, creando basi in India, creando una colonia in America, chiamata in onore di re Luigi XIV, Luisiana. Tra il 1650 e il 1700, Francia, Inghilterra e Olanda combatterono tra loro per il predominio sui mari e sulle colonie. La deportazione degli schiavi dall'Africa all'America. In Brasile le piantagioni si diffusero rapidamente e poi nelle Antille e nell'America del Nord. Piantagioni di zucchero, caffè, cacao, tabacco, cotone e per la mano d'opera venivano deportati e venduti nei mercati gli schiavi neri provenienti dall'Africa. All'inizio i negrieri catturavano correti nelle foreste i neri. Poi il capo tribù africano catturava gli appartenenti a tribù nemiche e li vendeva ai negrieri che li portavano poi nelle piantagioni. Quindi il commercio triangolare. Partivano con prodotti di scambio per avere gli schiavi neri, tornavano deportando i neri e il viaggio durava mese e si viaggiava in condizioni disumane, molti morivano o si suicidavano dalla disperazione. Poi le navi ripartivano per l'Europa trasportando i prodotti delle colonie. Per questo il commercio era chiamato triangolare perché si toccavano i tre continenti, America, Africa e Europa. Linea del tempo. Nel 1602 ci sono le compagnie olandesi delle Indie orientali. Nel 1600 la compagnia inglese delle Indie orientali. Nel 1664 gli olandesi cedono l'uova Amsterdam agli inglesi che danno vita a New York.